L'iniziativa nasce perché i giovani di Mercogliano, quando hanno saputo di questa tragica notizia e del personaggio straordinario che è stato Davide, mi hanno invogliato, hanno deciso di organizzare questa iniziativa. L'abbiamo organizzata insieme alla Prologo di Mercogliano, che ringrazio per la loro collaborazione, perché la storia di Davide ci ha commosso, in quanto nel suo messaggio sociale che noi raccogliamo è proprio rivolto ai giovani, perché un giocatore che fa beneficenza in Toscana, che aiuta i deboli e che anche all'estero aveva iniziative benefiche, a noi questo fatto ci ha fatto commuovere. Le attività della Mirja si sono fermate per la vicenda che riguarda il campo sportivo di Mercogliano, almeno per quanto riguarda il calcio giocato, poi avete fatto altro in questi anni? Certo, noi ci siamo dovuti fermare per forza, è come abbiamo avuto una squalifica a tempo indeterminato. Purtroppo i nostri amministratori non sono stati tanto sensibili a capire i problemi che si creavano a Mercogliano e le conseguenze proprio per i giovani. E allora organizziamo le sfilate di auto d'epoca, io ne ho fatte per cinque anni di seguito, tre o quattro sfilate all'anno e vi invito a giugno, alla prossima manifestazione di giugno che ci sarà un'altra grande manifestazione di auto. Ovviamente le attività agonistiche dal punto di vista calcistico sono correlate alla ristrutturazione del campo. Questo piccolo fazzoletto di terra che noi avevamo fino a 15 anni fa, io così l'ho definito, abbiamo scoperto De Napoli, De Lanno, Pecchia, Liquidato, Surro, i fratelli Visconti, De Piase e 3.000 giovani che sono stati con noi per 35 anni che hanno vestito i colori della mirgia. E io devo ringraziare il mio amico, anche fondatore Gino Corrado, che tanto ha profuso e tanto sta facendo ancora per i giovani. Purtroppo il campo non c'è più, questo campo lo chiamavano campo di Alisandro, lo storico custode del campo. Noi aspettiamo da 15 anni che si smuove un po' la burocrazia, perché comunque bisogna dare una giusta risposta alle aspettative dei ragazzi di Mercogliano.